Siamo con Vincenzo Milone, dirigente della San Giorgese, oggi giornata particolare nel ricordo di Giorgio, come tutti abbiamo visto, un pubblico numeroso, però purtroppo è stata pure una partita un po' particolare, le emozioni freddi in campo, il pensiero di Giorgio, l'abbiamo tutti, il risultato finale è stato negativo. Ma passando alla partita il risultato negativo però la San Giorgese ha lottato fino alla fine, 5 a 2 però due golli proprio nei minuti di recupero quando la San Giorgese cercava di recuperare in tutte le maniere. Infatti sì, perché poi alla fine il mister ha fatto un attacco tutto offensivo, ha messo tutti gli attaccanti che c'era in panchina per almeno portare un punto sempre in memoria di Giorgio, era una cosa buonissima per tutti. Però la cosa positiva è stata solo quella quando abbiamo pareggiato, che proprio all'ottavo minuto sembra che Giorgio se l'ha chiamato, quando c'era l'ottavo minuto che abbiamo fischiato abbiamo fatto il gol, è la cosa positiva della partita. Bentrovato Pietro Di Chiera, il tecnico del Siderno. Mister, allora una bella vittoria. Sì, buonasera a tutti. È una bella vittoria. Un buon primo tempo dove abbiamo giocato come sappiamo fare. Il secondo tempo un po' più difficile anche perché loro sono venuti fuori. Anche spinti dalla particolare giornata che c'è stata hanno cercato di trarre fuori l'orgoglio e quindi abbiamo un po' sofferto. Questi sono i campionati purtroppo che ci aspettano. La partita che abbiamo da qua in avanti saranno tutte così. Se riusciamo a imporre un po' il nostro gioco e ad essere sempre lucidi riusciamo anche a fare ottimi risultati. Alla fine ci siamo riusciti, non con poche difficoltà però l'abbiamo tirato su. Alla fine ci siamo riusciti, non con poche difficoltà.